Oh Marco, ascolta con mal di testa, ma ieri sera cosa abbiamo fatto? Ma come Sandro? Ti ricordo di me cosa abbiamo fatto? Oh, mi ricordo di dove siamo andati? Ma sì, siamo andati all'Osteria, a Franciscus, a Bardolina, sul lago de Garda, ti ricordo di me? Ah, è la Madonna! Quanta mona! Ma è un tocco di mona! Ma meno so mia! Che abbiamo fatto, che gara anche alla sfilata della fotomodella italiana? Ma per cazzo, ah, i ragazzi amacca come giudici! Sì, che abbiamo fatto anche i giudici, ti ricordo? Sì, sì, ma scusami, però guarda, dopo finita la serata, mi so dedicare un attimo... Però ti ricordi che ha vinto la vittoria a Montella? Dopo la seconda classificata che arriva a Asia Fregnans? E la terza... La cosa, la Endira dal lago! Bravo! Bravo! Ma che bella Tosa! Sì, 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 sì! Ecco! Ma questa è la faccia, però... Monte, ti ricordi, no? Sì, 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 sì! E anche la presentatrice... Nicole Fontana! Nicole Fontana, bravissima! E la Pugassona che ha cantato, ha cantato! Rolando! Rolando, vamos! La hit dell'estate, sì! Grandioso! Che lei è la hit dell'estate del 2020, eh? Sì, del Veneto! A Camassa, a Camassa! È stata veramente una bella esperienza, siamo andati, abbiamo girato a Jesolo e quando abbiamo fatto la parte del balletto c'è stato un macello di gente che ci guardava, è stato veramente, veramente bello! Speriamo che vada bene! È la serata! Molto bella! E dopo, insomma, magari non altri, gli speaker! Speaker? Eh! Dove che sembrano altri che se scompiglio è festa! Scompiglio! Sempre la mona! Mammino che so mia mona, ma è as l'Asia! E' a sta in Veneto, è a Jesolo, 80 km! Asia! Fa vedere la spallina! Bicchini! Guarda che roba! Però, però bisogna anche dire che secondo me, diciamo che tutto è male, la serata le sta anche... Le sta molto interessante, bella e piacevole! Complimenti all'organizzazione! All'organizzazione, ma anche e soprattutto alle ragazze perché c'era veramente dei bei tocchi di mace! Confermo! Esatto! Grazie a tutti!